Ogni giorno, a migliaia di bambini, vengono somministrati farmaci non sperimentati per uso pediatrico. Spesso senza nessuna prescrizione, né controllo medico. Ma chi li espone a questi rischi? Non dare loro i tuoi farmaci. Lattanti, bambini e adolescenti, non sono adulti in miniatura. Rivolgiti sempre al pediatra. Se ti sta a cuore la loro salute, il senso della misura non basta. Grazie.